Personalmente è una partita che mi piace molto, vivendo lì, avendo fatto il settore giovanile lì e avendo anche allenato il fano calcio, è sicuramente una partita piacevole da fare, quindi mi piacerebbe far bella figura. Questo vuol dire anche fare molto molto bene in campo e chiudere in bellezza questo campionato? Sì, cercare di chiudere il meglio possibile quest'annata dove è stata piena di soddisfazioni, quindi questa sarebbe un'ulteriore soddisfazione perché i ragazzi ce lo meritano, hanno fatto molto bene, quindi siamo contenti per come sono andate le cose. Del futuro tu dici per ora che non ne parli, però se dovessi guardare più in là che Lega Pro pensi che possa venire fuori? Beh, sicuramente è una Lega Pro difficile, con squadre importanti, quindi è un campionato assolutamente complicato, però alla portata dell'Ancona a calcio. Per una neo promossa come sarà l'Ancona, ci saranno delle difficoltà particolari? Penso di sì, soprattutto a livello di organizzazione cambia molto, quindi probabilmente quelle squadre che vengono su dalla Lega dilettantistica a qualche difficoltà più inizialmente potrebbero trovarla, però bisogna attrezzarsi al più presto e quindi essere competitivi da subito. Altro futuro di cui si parla è quello di Sandro Marcaccio che nelle ultime ore fa discutere per quello che ha detto, vuoi commentare? Commenti no, commenti non li devo fare io, sicuramente su ogni cosa che dice la studia prima e quindi è molto preparato in questo, quindi quando uno ha una grande bravura può dire assolutamente tutto quello che vuole. Condividi in parte i suoi pensieri? Sì, sì, sì. Poi ci sono tre squadre che hanno lottato. No, eh... Ehm...